OpenStack torna a Austin, Texas, dove tutto era cominciato sei anni fa. Nel 2010 erano 75 le persone che hanno partecipato al Summit. L'anno scorso, a Vancouver, la partecipazione è salita a 6.000 persone, segno del crescente interesse che si è creato intorno alla community OpenStack. Creator sarà protagonista della partita, infatti parteciperà all'OpenStack Summit di Austin non solo per tenersi aggiornata sulle novità del settore e per comprendere in trend le scelte per le prossime release, ma avrà anche un ruolo attivo, con la presentazione dal titolo Monitoring a Multi-Vision Cloud based on OpenStack dei Fireware Lab Case Studies nell'ambito del track Case Studies. A rientro vi faremo sapere com'è andata e vi forniremo un risoconto degli highlights del Summit di Austin.